Il settore archivistico del Ministero è molto esteso, consiste in 101 archivi di stato provinciali che hanno 32 sezioni staccate, 14 soprintendenze archivistiche, 17 scuole d'archivio. In questi archivi di stato e loro sezioni ci sono 1500 chilometri lineari di documentazione, se messa tutta in fila è probabilmente il patrimonio archivistico più grande del mondo senza dubbio per quanto riguarda la documentazione antica. Le soprintendenze devono vigilare ben 150.000 archivi di enti pubblici e privati sul territorio. Tutto questo settore certamente ha un peso, fa bisogno di personale e di risorse abbastanza notevole, anche se non produce denaro, non è suscettibile di commercializzazione, non ha un ritorno politico per chi fa dei provvedimenti a favore di questo settore. Anche questo settore è sottoposto a due grandi ordini di emergenze. Una è la prosecuzione delle emergenze che già c'erano sotto i governi precedenti, poi parleremo delle riforme franceschini. Anzitutto si è già detto tante volte la riduzione gravissima del personale tecnico. Anni fa gli archivisti fecero una manifestazione, tre anni fa, che aveva il titolo e poi non rimase nessuno, perché appunto tra poco l'ultimo chiuderà la porta dell'ultimo archivio di Stato e non si sa a chi e a come dovranno essere dati e abbandonati per continuare a esistere, perché la maggior parte degli archivisti, il 70%, ha più di 60 anni. Entro cinque anni gli attuali saranno andati praticamente tutti in pensione. Questi 90 che li sostituiranno serviranno a riempire parzialmente i buchi attuali, ma dovranno essere sostituiti entro cinque anni da almeno altri 600, perché questo è il numero che in 5-6 anni se ne andrà via. Cioè proprio c'è, essendo una coorte di persone che avevano tutte più o meno la stessa età quando furono assunte negli anni 78-80 con l'occupazione giovanile, adesso tutti insieme, diciamo come un treno che esce fuori su un burrone, tutti insieme andranno fuori. Quindi la situazione per gli archivi è particolarmente più grave che negli altri settori da questo punto di vista. E quindi questa è un'emergenza gravissima, ormai arrivata al limite, anche perché occorre un breve, non brevissimo periodo di sovrapposizione tra la nuova generazione e la vecchia, perché agli nuovi che entrano dovrà essere comunicato un sapere scientifico e pratico che si è accumulato tacitamente in generazioni e si è trasmesso. È un sapere che non è scritto in libri, riviste o stampati, si trasmette imparando sul terreno il mestiere da un altro, come anticamente si è sempre fatto in questi campi. E quindi se non si fa presto, anche posto che si sostituiscano questi che sono andati via, non lo si può fare il giorno dopo che sono andati via, se no chi arriva non saprà proprio cosa fare dentro gli archivi. Quindi questa è una delle gravi emergenze che ormai sono arrivate al limite. L'altra emergenza è quella logistica, cioè la carenza di risorse per il funzionamento, che abbiamo già detto, grandi progetti, grandi finanziamenti ai Colossei, noi archivisti siamo restaurati mezzo Colosseo in meno, ma fate vivere tutti i 140 archivi italiani, no, non si può. Bisogna investire 18 milioni nell'arena del Colosseo e non se ne possono investire 10 per far funzionare gli archivi. Ecco, questa è la logica, va bene. Queste risorse sono talmente ridotte, ormai il personale di mezzi, che non stiamo più facendo la tutela degli archivi sul territorio. Questo è un punto, non so adesso bene com'è la situazione dai colleghi delle cosiddette arti, archeologia, architettura, ma siamo in situazioni simili. In molte realtà, ormai non abbiamo i soldi per andare in missione con la macchina, non possiamo usare la macchina, è stato già detto. Quindi, diciamo, l'emergenza silenziosa, ma progressiva, è che anche la tutela degli archivi non si riesce più a fare sul territorio. Per i motivi che abbiamo detto, è inutile che ve li sto a ripetere. Tra l'altro c'è un aggravamento assolutamente grottesco. Il ministro Franceschini, nessuno ci può dire che non era d'accordo, con un emendamento pirata alla finanziaria, ha accollato alle soprintendenze archivistiche anche la tutela dei beni librari non statali sul territorio che prima avevano le regioni, le quali non si capisce se in parte non la volevano o gli è stata in parte strappata. Il fatto sta che è stata assegnata al ministero, e il ministero ha pensato bene che avendo questi organi che non c'entrano in teoria con le biblioteche, perché abbiamo tutti specializzazioni diverse, però ha attribuito alle soprintendenze archivistiche anche alla tutela, che per esempio subito gli è scascata sulle spalle in forma di esportazione. Ci sono tantissimi brand antiquari che adesso esportano i loro libri rivolgendosi alle soprintendenze archivistiche. Immaginate quindi come riusciranno a fare il loro lavoro di tutela. Per quanto riguarda gli spazi, poi si determina che gli archivi, a differenza di altri settori dei beni culturali, hanno un incremento obbligatorio, progressivo, continuo di tutti gli archivi non più necessari agli uffici dello Stato che devono essere versati agli archivi di Stato. Il ministero dell'interno, quattro anni fa, ha fatto un censimento, tutti gli archivi che aspettano questo versamento, perché hanno più dei 30 anni fissati ora dalla legge, pure abbreviati, sono 1500 chilometri, cioè altrettanto di quello che c'è dentro. Allora, se vi fermate un secondo su questo dato, capite che, diciamo, in pratica il sistema degli archivi, il settore archivistico, è arrivato a un punto morto. E non si capisce cosa si dovrà fare di tutta questa documentazione che sta in magazzini, depositi e capannoni delle pubbliche amministrazioni. Roma circondata da capannoni giganteschi, pieni di chilometri, di documenti di ministeri. I soli archivi giudiziari della città di Roma sono 100 chilometri. Quanto c'è dentro l'archivio di Stato di Roma? Quindi, diciamo, questa è una situazione gravissima, di cui nessuno parla, assolutamente, proprio come se non esistesse. Per esempio, gli archivi non riescono ad avere le caserme di messe, no? Roma è piena di centinaia di edifici, di vecchie caserme, di carabinieri, di tutto quanto, e non ne viene data nessuna. Devono tenere in affitto l'archivio centrale dello Stato all'euro pagando 6 milioni l'anno. Va bene? Quindi, diciamo, qual è la situazione? È che in questo Paese non c'è, non c'è mai stata, e non ci vuole essere, una politica degli archivi, che deve comprendere anche un altro aspetto molto importante, che è la tutela degli archivi digitali. Perché oltre a questi cartacei, diciamo, queste masse di documentazione che dovrebbero diventare storiche, previo a uno scarto, ci sono anche tutti gli archivi cartacei e, scusate, digitali delle pubbliche amministrazioni dove ora, in base alle norme di dematerializzazione, si sta concentrando la memoria del nostro presente. Questa memoria, se non ci si trovano e si attuano le procedure di riversamento e di conservazione mediante riformattazione, cambiamento e aggiornamento dei supporti e così via, si perde. La controprova è, domandatevi, a quando risale il più vecchio file del vostro pc. Se ha più di 30 anni, non esiste. Nessuno ha un file più di 10 anni, 12, non lo so, sono già troppi. E gli altri sono, è così come per voi, succederà per le amministrazioni. Cioè, questo paese perderà la memoria del tempo presente, come una persona affetta dall'amnesia anterograda, che non ricorda, no, quello che succede nei tempi recenti, ma solo quello che è successo nel passato. E dovrà dipendere, per il racconto del tempo presente, dai padroni del momento, che gli diranno che cosa è successo l'altro ieri, qual è la premessa di una certa legge, che avevano presentato una legge, due legislature fa, i file non ci sono più, quindi te lo dico io, che cosa è successo. Non puoi saperlo. non avremo più una indipendenza di memoria dalla cittadinanza. Quindi anche questo è un'emergenza molto grave del settore archivistico. E però, per cambiare questo, occorre cambiare, proprio per avere una politica degli archivi, occorrerebbe avere un'altra politica culturale, della quale la formazione dei cittadini, di cui la memoria storica e la formazione sulla storia del recente passato è un elemento fondamentale. Ci sono dei ragazzi che non sanno più distinguere tra il tempo del fascismo, quello se fate dei quiz nelle scuole, per loro Napoleone, Mussolini e Hitler sono vissuti dieci anni fa oppure cento. Questa perdita di prospettiva della memoria è un grave danno civile al nostro paese, che richiederebbe appunto che gli archivi avessero un'altra politica nell'ambito della politica culturale che noi stiamo chiedendo di attuazione dell'articolo 9, chiaramente. Anche l'aspetto dell'accesso dei cittadini alla documentazione amministrativa, alla trasparenza amministrativa. Adesso stanno facendo una legge che non si capisce se è molto più arretrata di quella degli Stati Uniti di 40 anni fa. Diciamo, non riconosce dei veri diritti perché non si vuole riconoscere ai cittadini il diritto di ingerirsi nell'attività dell'amministrazione e di chiedere la documentazione. È riconosciuto solo a chi ha un interesse specifico alla singola pratica ma sapete bene con quali difficoltà. Quindi tutto questo settore sono le emergenze diciamo tradizionali che stanno aggravandosi ormai a un punto critico. Poi ci sono le riforme Franceschini che sono due come diceva Giuliana senza dubbio e non certo una sola. Solo un minuto per favore Eh? Solo un minuto siamo qua Sì. Questa riforma cioè si è stato detto che i musei autonomi sono qualcosa di positivo certamente lo sarebbero stati se si fossero investite risorse aggiuntive per fare anche i musei autonomi invece per fare i 30 musei autonomi le 17 polli regionali lasciare i 17 segretariati regionali che sono inutili visto che hanno soppresso le direzioni regionali e così via hanno devastato e demolito e distrutto i settori residui di cui archivi e biblioteche principali. Fra tutte e due hanno perso 35 sedi dirigenziali sul territorio anche le soprintendenze hanno perso 39 sedi di soprintendenza quindi il ministro dice una balla quando dice che c'è più tutela sul territorio oggi le soprintendenze sono meno di quanto erano tre anni due anni fa chiaramente perché? Perché si sono fatti 30 musei autonomi 17 polli regionali museali che potevano essere benissimo restare all'interno delle soprintendenze regionali che c'erano prima e ovviamente tutto questo ha comportato un raddoppio di decurtazione per gli altri settori perché si è fatto nel momento in cui la spending review diceva che bisognava detratagliare il 20% quindi ultima cosa è stato già detto dieci volte la legge Madia la legge Madia è gravissima insisto a dire che la legge Madia prevede oggi e nessuno ha detto il contrario salvo le chiacchiere del ministro che tutti gli uffici periferici dello Stato compresi quelli dei beni culturali diventeranno uffici subordinati delle nuove prefetture chiamate uffici del governo due minuti a finire allora questo cosa significa che resteranno il ministero rimarrà solo con i 30 musei autonomi che dicendo che sono autonomi non sono uffici come gli altri cercherà di lasciarli fuori delle prefetture che certo non li vogliono tutto il resto deve andare dentro le prefetture e non si capisce l'esito quale sarà che l'unico ministero che avrà uffici periferici è il ministero dell'interno cioè passeremo tutti a dipendenti del ministero dell'interno se io leggo le cose come sono scritte perché se invece si inventano un'anomala e stranissima diarchia per cui noi rimarremo dipendenti del ministero dei beni culturali però dobbiamo obbedire al prefetto ditemi voi come diavolo questo sistema che già adesso è al collasso e al caos è stato detto per le conseguenze di queste riforme che nessuno sa cosa deve fare figuratevi quando ci sarà una diarchia come funzioneremo l'unico risultato e concludo è che il ministero sarà politicizzato e privatizzato e noi dobbiamo lottare in piazza contro questa prospettiva perché non vogliamo che questo avvenga e contrario del tutto alla Costituzione a